quando io gareggiavo e vincevo nelle varie riviste il riportavano che aveva vinto il frank zain italiano gino barzacchi beh questo mi faceva sicuramente piacere perché frank zain per chi non lo sapesse è stato per tre volte di fila mister olimpia il massimo titolo assoluto di conseguenza con un fisico eccezionale tra l'altro un fisico che io ammiravo ed era la mia ideologia di fisico perché non era esageratamente grosso fino ad arrivare al grottesco di alcuni atleti di oggi aveva delle masse muscolari sviluppate però non esagerate era simmetrico e aveva una buona visione estetica però io quando l'ho conosciuto personalmente frank zain mi ha deluso mi ha deluso e spiego il perché nel mio libro la mia autobiografia intitolata il mio bodybuilding e non solo nell'autobiografia oltre aver scritto delle mie tecniche da allenamento ho scritto il mio percorso di allenamento e anche gli incontri che ho fatto a livello nazionale e internazionale con dei big iniziando gli allenamenti a 14 anni allenandomi in casa mia con dei pesi di fortuna ho fatto poi la mia prima competizione l'esordio agonistico a 19 anni e da lì poi è stata una escalation con gare sempre più importanti fino ad arrivare a campionati del mondo di bodybuilding natural a new york rai 2 venne a farmi una intervista prima che io partissi e sempre rai 2 dette la notizia del telegiornale sul mio sulla mia classifica 31 anni di agonismo sono tanti infatti sono stato premiato alla carriera da un artista che si chiama ivano kurti di bergamo che è uno scultore e anche un pittore e mi ha dato lui con le sue mani mi ha dato la scultura appunto alla carriera sergio nubri mi presento il suo agente cinematografico e grazie a lui sono riuscito a fare sette film e qualcosa in televisione in televisione anche con nino manfredi in un commissario a roma nella puntata chiamata samba erano 12 le puntate e quindi i muscoli sono serviti non solo per salire sul palco di gara ma anche fare qualcosa in campo nel campo artistico oltre che delle foto pubblicitarie gli incontri sono arrivati sul set avvenuti con nomi diciamo giganteschi come sofia lore manfredi come detto prima ma anche altri ne ho raccontati così come l'ho vissuti mentre le interviste televisive che ho avuto sono tante specialmente quelle diciamo di ordine regionale del centro italia perché quelle più importanti appunto sono sono state quelle di re 2 odion tv ma soprattutto rai 1 quando venne enzo stinchelli a intervistarmi con la troupe di furgone della rai che si fermò davanti alla mia palestra davanti al mio gene club e si fecero delle delle riprese all'interno con una bella intervista che io poi ho visto essendo registrata ho visto tre giorni dopo quando era domenica in tg luna un rotocalco chiamiamo così che andava per la maggiore all'epoca che veniva trasmesso subito dopo il telegiornale quindi una fascia oraria piena si prendeva tutti di domenica e quindi io li diciamo come scrisse andy warlow vissi i miei 15 minuti di notorietà e andy warlow dice che chiunque nella propria vita ha diritto a questi 15 minuti di notorietà e furono furono quelli che iniziarono per me proprio allora e prima di andarsene stinchelli fece una bella trovata sapeva che nei fossi di nei fossi di livorno c'erano state buttate delle teste false di modigliani per cui si agganciò a questo fatto di cronaca allora recente dicendo barzacchi facci vedere i bicipiti e fece bicipite dietro di noi c'erano i famosi fossi di modigliani che ovviamente ci sono ancora con la fortezza ma saranno veri o saranno falsi questi bicipiti di gino barzacchi e ovviamente non mi fece sfuggire l'occasione per dire che sono veri e sono disponibili per fare un controllo anti doping sempre in qualsiasi momento e senza preavviso e questa frase l'ho scritta e ripetuta ogni volta che mi è stata possibile e forse ai miei detrattori sarà venuta anche a noi ma me questo non mi interessa e scrivere questa mia autobiografia mi ha dato anche l'opportunità di intervistare personaggi eccezionali e simpatici tra questi c'è anche il gigantesco marco tullio cao che ha fatto la controfigura di lu ferrigno più volte in film come ercole pochi giorni fa è stato girato un realistico cortometraggio che si snoda tra gare di bodybuilding con la vittoria di trofei coppe medaglie premi e interessanti interviste ecco vi invito a seguirmi per le coppe di un campione e non solo